ciao a tutti ed eccomi tornata con un nuovo breve piccolo video buon anno a tutti buon anno anche dal divo dunque non fate caso a tutto questo casino che c'è qua sopra ma mi è sparito il cavalletto per tenere il telefono quindi vabbè adesso vi farò vedere una cosa che qualcosa che ho comprato da aliexpress mesetto fa circa e abbiate pazienza vi faccio vedere così alla svelta dopo voglio fare delle piccole creazioni in resina oggi mi è venuto il pallino creativo vedrò cosa riesco a fare con questo bordello qua è sempre le solite però adesso c'è questa novità allora un attimo solo abbiate pazienza intanto ho ordinato due di queste mascherine trasparenti così sì perché io voglio il mio rossetto però le proverò tanto per un euro luna quindi poi 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 secondo ordinato anche questi stampi e non voglio tirar fuori per non sporcarli ma ne ho due uguali quindi uno lo tiro fuori l'altro lo lascio stare vedete che hanno già il coso per il buchino due capo son un ovale uno rotondo questo rombo idale questa forma di scudo questa goccia cuoricino un altro vale e altre due forme che non mi ricordo quali sono però sono così e quindi questo qua qualcuno lo faccio poi ho ordinato guardate questa splendida goccia tutta con una specie di forma a prisma dentro questa è stupenda mi è piaciuta subito poi 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 la ouija con la farfalla l'aspettavo più piccola però vabbè fa niente la planchette della ouija poi un'altra mascherina poi vediamo a il doppio di quello stampo che l'ho fatto vedere prima esattamente identico vedete poi questi che ho intenzione di utilizzare all'interno della resina quando nel prossimo ordine farò anche il l'ordine del cubo della piramide per farne un tipo un soprammobile con questi animaletti all'interno non so se riuscite a vederli col disfresso della luce ma sono degli orsetti guardate come sono arrivati impacchettati in queste ampolline di plastica questo è l'orsetto in piedi l'orsetto che cammina il bimbo dell'orsetto ne ordinerò degli altri poi 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 tada lo stampo per fare gli anelli si finalmente l'ho trovato un prezzo ragionevole poi basta non c'è più nulla io mi sono comprata questo anello a unicorno riuscite a vederlo a me piace un sacco va bene breve piccolo video breve storie triste un altro augurio di buon anno a tutti quanti speriamo che sia migliore adesso mi metto a fare la prima resina dell'anno oggi mi è girato il pallino creativo così e abbiate pazienza se l'ho fatto un po destabilizzato però non so dove ha fatto sparire il mio cavalletto dove è stato seppellito in questo marasma di tavolino un po così ci vediamo al prossimo video un grossimo un grosso bacione ancora rinnovati auguri di buon anno a tutti ciao dunque scusatemi questo look un po sbarazzino così però volevo dirvi che domani verrò contattata da una radio per fare una intervista via una video intervista online ovviamente vi lascio l'immagine per connettervi e vedere l'intervista online grazie ciao ciao